Perché ce l'avete col governo? Ce l'abbiamo perché sull'onda demagogica il governo Renzi sta smantellando il corpo forestale dello Stato. Ha bisogno di fare un tweet e di dire che le forze di polizia si riducono da 5 a 4, ma nascondendo il fatto che il corpo forestale dello Stato conta 8.000 uomini su un comparto della sicurezza di 302.000, stiamo parlando del 2,5%, non dicendo che vuole, lascia i 5 corpi forestali delle regioni autonome, non dice nulla per la vergogna delle migliaia e migliaia dei forestali di Sicilia e Calabria che continueranno a rimanere, ma smantella l'unica forza che si è specializzata in due secoli di storia sulla tutela dell'ambiente, sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, sulla lotta alla contraffazione delle frodi agroalimentari, sul bracconaggio, sul maltrattamento degli animali. A Renzi tutto questo non interessa nulla e quindi ha deciso di accorpare il corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia e sarà la polizia di Stato. Questo è un assurdo. Un altro tweet del ministro Madì ha detto che con questa misura si rafforza la tutela della natura e degli animali. A nulla sono valse per esempio le grida di preoccupazione del Roberti, procuratore nazionale antimafia, che ha lanciato un grande allarme e ha detto che veramente così non si compie più il contrasto agli ecoreati e il contrasto alle frodi alimentari che aumentano di anno in anno. Insomma una vergogna, la Lega Nord si è opposta, la Lega Nord è per la spendy review, ma questa non è spendy review. Questo significa veramente spuntare le armi contro tutti questi problemi che riguardano animali, ambiente e agroalimentare.